Dammi la mano, dai vieni con me Un luogo di divertimento e di aggregazione per i bambini dove poter trascorrere il tempo libero e poter giocare in libertà Tutto questo è il mondo di Gege Giambo Landia all'interno del centro commerciale Giambo Una struttura di mille metri quadrati con cinema 5D percorso avventura e tante altre attrazioni dedicate ai piccoli Abbiamo una struttura di mille metri quadrati completamente dedicata alla cura e non in minimo dettaglio e dedicata al divertimento dei bambini Abbiamo 11 metri attrazioni che vanno da quelle più classiche come trampolini e battelle a motore a quelle più innovative come il cinema 5D il percorso avventura ed il mini tubi L'ingresso all'interno del parco dei giochi è totalmente gratuito con la possibilità di poter soffrire delle nostre attrazioni a partire da soli i 50 centesimi perché pensiamo che il sorriso di un bambino costi poco ma sicuramente non è cosa da poco Oggi è una giornata particolarmente importante perché abbiamo a disposizione la piattaforma virtuale Omni Virtuix in esclusiva italiana a quel parco giochi Giambolandia e di cui ringraziamo naturalmente la società GFSRL è una realtà campana leader nello sviluppo e della programmazione di piattaforme virtuali L'Omni Virtuix è una piattaforma virtuale di movimento attiva dove per attiva si intende il controllo assoluto dell'avatar attraverso le azioni fisiche del giocatore Attraverso l'Omni il player è in grado di controllare e di effettuare movimenti in completa libertà a 360 gradi avendo una sensazione di immersione completamente nuova Offriamo dei pacchetti particolari in settimana a partire da soltanto 9 euro dove è possibile usufruire delle medie attrazioni per la durata di un'ora Abbiamo poi un'area play soft e un'area playground totalmente coperta il che ci garantisce un'apertura di 360 giorni l'anno Abbiamo tre aree dedicate alle feste di compleanno con dei pacchetti basi che partono da soli 139 euro che comprendono tre ore di giochi tantissima animazione, cinema 5D nonché pizza e bevanda per tutti i bambini Naturalmente il pacchetto base non preclude poi la possibilità di poter personalizzare in tutto e non in minimo dettaglio la festa dei nostri bambini con caramellate, elaborazione della sabbia magica oppure qualsiasi festa a tema per un eroe particolarmente prescelto dal nostro bambino Grazie a tutti!